La trasmissione si ferma Mara venne e litiga con Teo Mammucari e lascia lo studio di tutti i cui vales, la trasmissione si ferma, interviene Maria De Filippi Mara venne e litiga con Teo Mammucari e lascia lo studio di tutti i cui vales, Maria De Filippi la rincorre. Nuovo litigio tra Teo Mammucari e Mara venne a tutti i cui vales. . Ma questa volta la discussione finisce male, la giurata popolare manda prima a quel paese il collega e poi lascia lo studio del programma di Canale 5. La conduttrice non rientra, nonostante le insistenze di Maria De Filippi, e la trasmissione si interrompe. . Il chiarimento avviene poi a telecande spente, come specificato dalla produzione con un messaggio. . Cosa è successo di preciso? Mammucari ha punzecchiato per l'ennesima volta la venie dopo l'esibizione di un concorrente. . Teo è solito prendere in giro Mara ma, davanti all'ennesimo sfotto, l'ex moglie di Gerrica la è letteralmente sbottata. . Tanto da alzarsi dalla sedia e lasciare lo studio, in stile Tina Cipollari. . Tra i presenti è calato il gelo e la De Filippi ha preso in mano la situazione, raggiungendo subito Mara. . Che, superata la rabbia iniziale, ha in un secondo momento chiarito con Teo. . . .